Un modus operandi consolidato che è stato oggetto delle indagini degli inquirenti, un gruppo capace di interloquire contemporaneamente con diversi fornitori della provincia di Messina dimostrando grande capacità economica nel pagamento delle partite di droga acquistate e abilità nella distribuzione al dettaglio dello stupefacente, sia nel territorio di Falcone che nei comuni limitrofi concessione di droga anche a soggetti minori. Una grande capacità organizzativa e un'attività strutturata attraverso rapporti consolidati con intermediari e fornitori. Dalle indagini è emerso come il principale indagato ricollocasse monili in oro e preziosi provento di furto sul mercato legale grazie alla complicità di un gioielliere per finanziare ulteriormente l'attività illecita. L'indagine ha consentito di arrestare in flagranza di reato tre persone, di sequestrare circa un chilogrammo di hashish, 200 grammi di marijuana, 30 grammi di cocaina e circa 2.500 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio, oltre a segnalare diversi acquirenti di sostanze psicotrope diverse. A proposito del coinvolgimento di minori nell'attività di spaccio le indagini dei carabinieri avrebbero messo in evidenza come uno degli indagati abbia ceduto stupefacente ad alcuni acquirenti in concorso con il figlio minore e un altro degli indagati abbia agito in concorso con un altro minore per cedere stupefacente sempre a minori.